Tudor Black Bay 41, l'orologio da polso che esalta l'eleganza senza tempo. Il Tudor Black Bay 41 è una creazione che fa parte della collezione Black Bay, una delle linee più iconiche e apprezzate del marchio Tudor. La collezione Black Bay si ispira ai modelli storici di Tudor, in particolare agli orologi subacquei che hanno fatto la storia dell'orologeria. Il Black Bay 41, tuttavia, si discosta dagli altri modelli della collezione per il suo design classico e raffinato, pensato per catturare l'attenzione senza ostentazione. La cassa di dimensioni ideali, con diametro di 41 mm, è perfettamente bilanciata e adatta a qualsiasi polso. La cassa è realizzata in acciaio inossidabile o in oro giallo, a seconda della versione. La lunetta, il fondello a vite e le lancette Snowflake di Tudor conferiscono a questo orologio un'aura di autenticità e qualità. Il quadrante sobrio e senza tempo è arricchito da indici e lancette luminosi, che rendono l'orologio facilmente leggibile in ogni situazione. Sull'esterno del quadrante si può notare anche la minuteria chiusa che rende la lettura dei minuti più leggibile e precisa. Il quadrante può essere di colore nero, blu oppure opale, a seconda delle preferenze. Il bracciale integrato contribuisce all'estetica armoniosa del modello. Il bracciale può essere in acciaio inossidabile, in oro giallo o in una combinazione dei due materiali. In alternativa, si può optare per un cinturino in cuoio o in tessuto, che conferiscono all'orologio un carattere diverso e unico. Alcune versioni del Black Bay 41 mm sono dotati di una lunetta unidirezionale con disco in acciaio sulla quale è riportata una scala di 60 minuti che funge da calcolatore di intervalli di tempo. Che nel caso del Black Bay 41 mm, orologio impermeabile fino a 200 metri, serve a un sub per sapere il tempo percorso da una boa all'altra. Il Black Bay 41 è un omaggio alla tradizione orologera e all'eccellenza artigianale. L'orologio è frutto di un'attenta progettazione e di una meticolosa lavorazione, che si riflettono in ogni aspetto del suo design e delle sue funzionalità. È un'espressione di classe e raffinatezza che supera le tendenze effimere, mantenendo il suo fascino intatto nel corso del tempo. Il Black Bay 41 è dotato di un movimento meccanico a carica automatica, che garantisce la precisione e l'affidabilità del tempo. Il movimento è certificato dal COSC, Controllo Ufficiale Svizzero dei Cronometri, che ne attesta la qualità e la performance. Il movimento ha una riserva di carica di circa 70 ore, che permette di indossare l'orologio per diversi giorni senza doverlo caricare. Indossare il Black Bay 41 significa indossare un pezzo di storia e di raffinatezza che resterà sempre attuale nel mondo mutevole della moda. Se stai cercando un orologio da polso che sia al tempo stesso elegante e funzionale, il Black Bay 41 è la scelta giusta per te. Visita il sito www.orafix.it per scoprire tutti i modelli disponibili e trova quello che fa per te.